host 2021 continua ci troviamo allo stand della team system spa un'azienda che realizza software verticali per il business italiano ma non solo e siamo in compagnia di domenico castriotta il responsabile business verticali per team system intanto buongiorno domenico e cosa sono nel vostro caso i business verticali buongiorno fabio grazie allora per noi in team system i business verticali sono quelli che vanno a servire quei mercati che parlano in modo verticale di soluzioni specifiche in particolar modo il mondo della ristorazione tutto il mondo del wellness e anche il mondo degli hotel spieghiamo però anche se non ce ne sarebbe bisogno chi è team system facciamo la storia di team system in un minuto è difficile un minuto però ci provo team system nasce nel 1979 e da sempre si è focalizzata sulla realizzazione di soluzioni software siamo partiti dal mercato dei commercialisti ad oggi invece team system ha un portafoglio soluzioni molto ampio segue tantissimi mercati dagli aziende aziende di produzione aziende commerciali appunto il mondo degli hotel della ristorazione il mondo del wellness quindi sono veramente tante le soluzioni oggi team system ha la possibilità di servire circa il 30 per cento delle partite iva in italia quindi e abbiamo 350 software partner più di 4.000 a dette ai lavori che girano nel mondo team system perché siete qui a os 2021 la fiera della ripartenza si siamo qui perché team system è molto attenta a quelle che sono le soluzioni e soprattutto ad ascoltare quelle che sono le esigenze dei clienti fatti grazie a questo noi ad os presentiamo delle importanti e tantissime soluzioni per il mercato della ristorazione per il mercato degli hotel e per esempio per il mercato della ristorazione puntiamo tantissimo sul concetto del cashless ossia dei pagamenti digitali grazie alla stampa di un QR code e alla potente soluzione dei pagamenti digitali i clienti oggi possono pagare quello che il loro conto direttamente dal tavolo tutto attraverso un'applicazione che gira sullo smartphone la seconda soluzione la seconda soluzione importante per il mondo dell'hotel puntiamo su quelli che sono i prezzi dinamici attraverso un potente motore di intelligenza artificiale e cosa facciamo andiamo analizzare tutte quelle che sono i prezzi che vengono proposti dai concorrenti e proponiamo al mercato e quindi ai clienti degli hotel il prezzo giusto nel momento giusto a tutto questo si completa anche la gestione della completa automazione quindi l'esperienza unica digitale del cliente che arriva in hotel dal check-in al check-out e allora per tutti coloro che sono all'altra parte e hanno ascoltato con interesse quanto hai detto c'è un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per mettersi in contatto con voi senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni su questi due prodotti? sì fabio allora invitiamo tutte le persone ad andare sul nostro sito www.teamsystem.com e scegliere all'interno delle varie sezioni quelle che sono il vostro mercato di riferimento e quella che è la soluzione che più vi piace e quindi da lì potete contattarci. Grazie per il prezioso contributo domenico in tutta confidenza e a microfoni e telecamera aperti c'è tanta gente questa è davvero la fiera della ripartenza. Guarda Fabio non ce l' aspettavamo eravamo molto titubanti mentre in realtà stiamo vedendo tantissimo interesse tantissima gente non solo curiosi ma persone che sono interessate e quindi che vogliono veramente ripartire questa è una cosa che ci fa sempre molto piacere. Grazie grazie ancora per il contributo noi continueremo a parlare di Team System e le sue soluzioni su orecanews.it e naturalmente anche sulla rivista il fuoricasa dedicata all'oreca e al full service. Grazie. Grazie Fabio grazie a tutti